Ciao a tutti da Salvatore, eccoci qui, ci troviamo agli stand del Marathon Village 2017 e vi trovo con Leonardo Ducarelli, allora abbiamo qui Fly in the Sky, esattamente allora raccontaci un pochino come funziona, come si svolge è un volo che si svolge su una folia di acciaio, è lunga 2225 metri, la più lunga al mondo e con l'imbragatura tipo da parte del mio, la stessa cosa e siamo la zip line più lunga al mondo e più veloce al mondo si va in biglietteria, si fa il biglietto, ci si pesa per vedere il peso perché deve corrispondere in base al vento dopodiché si scende giù, si deve fare, allora si possono svolgere i voli partendo da 40 kg minimo e dopo il doppio fino a 150 kg portando non più di differenza di 40 kg l'un dall'altro dopodiché viene appeso su questo carrello se lo potete inquadrare ecco certo questa è la fune del volo ecco la regia la fune del volo stesso è molto solida molto solida costruita appositamente e con l'imbragatura da pari vendio si parte e si svolge ecco la tua questa è l'imbragatura questa qui potete vedere l'imbragatura perciò la sicurezza al 100% massima sicurezza al 100% è un volo che svolgono anche i ragazzini l'importante è che fanno 40 kg l'hanno fatto persone di 80 anni quindi nella massima sicurezza è un volo veramente nel cielo impicchiata come il vero falco e si arriva in massima sicurezza ecco poi ho saputo anche che in coppia si può fare si può fare anche in coppia come dicevo prima l'importante è arrivare con un massimo più di 150 kg con una differenza 40 kg l'un dall'altro e questa è una novità che è partita due anni fa circa alla nostra avvertura perché noi siamo verti dal 2014 e proprio da lì è partito il volo in coppia infatti è chiamato anche il volo del falco pellegrino perché il falco pellegrino quando si accoppia rimane unito per tutta la vita ah ecco perciò è un unico una fusione diamo anche i voli omaggio a tutti gli sposi abbiamo fatto sì dalla nostra voce ecco perciò la coppiatura dell'acqua allora se vi state per sposare dove vi trovano su internet? a Rocca Massima sull'intel www.flyinthesky.it oppure al 06 96 69 021 fly in the sky voi andate su facebook ve lo dico io e lo trovate li trovate e lì ci sono i numeri di telefono che già vi ho dato e tutti i riferimenti allora noi chi vogliamo salutare? salutiamo tutti gli amici della Paratona di Roma ecco il Salunatore grazie i Primis e l'Oasi Park e soprattutto è sempre il numero uno l'Oasi Park noi salutiamo in nome di Danilo Melandri e la famiglia Melandri ovviamente e Dragoland e ovviamente la radio non la dimentichiamo Radio Bimbo ciao